Assistiamo con piacere a una ripresa dell'attività vaccinale intensa presso il nostro hub. Continuano a venire un buon numero di persone che fanno prevalentemente le terze dosi, però devo dire che con piacere anche molte prime dosi. Ieri abbiamo fatto quasi 1.400 vaccini, di cui almeno 300 erano prime dosi. Mi pare un risultato estremamente importante. Si vede che c'è una rinnovata attenzione sia sulla vaccinazione che irrobustisce la nostra immunità, sia la necessità di doversi vaccinare per chi ancora non l'ha fatto. Questo nasce da una considerazione. Noi abbiamo il virus che circola, i contagi che sono in buon numero, pochissime persone ricoverate, nessuno dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato. Credo che siano ottimi i motivi per venirsi a vaccinare, per venire a fare le prime dosi e per venire anche a fare le dosi booster.